Guarda, lo sentite? Lo sentite? Benissimo! Questi tre, questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali, guardali, sono tuoi! Italia Watch Collezion, gli originali onorosi dell'Italia Collezione 2011, tutti e tre, oggi correte! Guardate, strappate il telefono a 39 Euro e do a tutti voi uno zaino della Diadora, sì certo, l'avete capito bene, nei 39 Euro pagate 12 o 13 Euro di contributo, spese d'asporto, ma il trasporto non sono soldi nostri, viaggia tutto inassicurata, quindi sono le spese del Corriere, ma dove trovate una cosa così? E allora mi sposto un attimo, quindi Collezione Italia Watch Collezion, tutti e tre, con l'antaglio di Adora, 30 euro, vi devo spiegare se solo questo può costare 39, questo veniva venduto a 29 Euro quando ce l'erano, voi sapete alcuni negozi 39, la media insomma dei 30-40 Euro.